Ho detto sempre nella prefazione iniziale che avremmo parlato di sanità e lo vogliamo fare con un consigliere regionale del gruppo misto della regione Basilicata, che è il dottor Gino Giorgetti, che ha seguito molto il tema e il problema sanità in Basilicata. Noi abbiamo un centro di eccellenza importante, di ricerca nella città di Rio Nero, che è il CROB, ospedale oncologico di riferimento. Questo ospedale ha vissuto negli ultimi tempi un po' di turbulenze, chiamiamole così, fra abbandoni, lasciti, nuove nomine di direttori, addirittura persone che hanno gestito solo in parte il problema e il tema oncologico. Ora si parla, si è parlato in politica, di un potenziamento, di un nuovo piano di potenziamento di questo ospedale. Ecco, lei, dottor Giorgetti, che segue la politica, fa politica, segue politica, ma segue anche il tema sanità in regione, che cos'è questo piano di potenziamento? Quali sono le cose positive o eventualmente negative di questo piano di potenziamento da parte del governo regionale? Buonasera Rino, grazie intanto per l'invito e buonasera anche a tutti i vostri ascoltatori. Buonasera. L'IRCS CROB è una struttura d'eccellenza, come hai ben detto, in Basilicata, ed è considerata una struttura d'eccellenza in generale nel sud Italia. La prima parte del nome è che l'IRCS è l'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, cioè sono degli istituti che vengono destinati, delle strutture sanitarie che vengono destinate dal Ministero appunto a strutture di ricerca a carattere sanitario. Il CROB di Rioniero ha questo titolo da sempre ed è parte del suo essere, diciamolo così. Quindi oltre a curare i pazienti oncologici c'è anche tutta una struttura di ricerca dietro, rivolta appunto alla medicina oncologica. Negli anni, come hai detto, ci sono stati grandi problemi per la struttura di Rioniero, legati soprattutto ai pensionamenti, alcuni dirigenti che hanno lasciato per andare in altre strutture. E purtroppo la situazione contingente, non solo in Basilicata, ma bisogna dirlo in tutta Italia, della sanità e della carenza di medici ha messo il CROB in difficoltà. Poi ci sono state anche questioni legate magari a visioni non proprio corrette di quello che deve essere il CROB, che hanno creato non pochi problemi. Io mi permetto sempre di dire che la grande eccellenza del CROB è merito soprattutto dei dipendenti, del personale medico, i primieri, gli os, di tutti quanti che con grande diligenza e grande responsabilità portano avanti la struttura anche quando ci sono momenti di vacazio, quando mancano i dirigenti. Oggi, come hai detto, c'è una delibera di potenziamento del CROB, una delibera dell'aggiunta regionale della Basilicata emanata a fine giugno. È una delibera che stanzia molti milioni di euro per il rilancio del CROB e che ha una visione sull'aumento dei posti letto e una visione in generale sul potenziamento. La criticità dov'è? La criticità che è stata analizzata da me personalmente durante la quarta commissione consigliare che si occupa proprio del settore sanitario, ma anche da sindacati e dalle associazioni che si occupano della tutela della salute, e che questa delibera è accompagnata da una relazione di Agenas, che è un'agenzia nazionale legata al ministero. Questa relazione propone un possibile piano di potenziamento. Questo piano contiene al suo interno tutte le criticità che vengono ennincate. Secondo me quella più eclatante è sicuramente la proposta da parte di Agenas di ridurre le unità operative, semplifichiamo proprio in maniera semplice i riparti, da 14 a 6. Questo qui è un atto probabilmente di semplificazione da parte di Agenas, ma che non si può ricondurre alla struttura di Ioniro. Non solo perché verrebbero meno tutta una serie di strutture che oggi sono in funzione all'interno del crop, ma sempre semplificando, perché noi, come ho già detto prima, c'è un problema di carenza di medici in tutta Italia. Per riuscire ad attirare i medici nella struttura di Ioniro, come in tutte le altre strutture, bisogna garantirgli la possibilità di fare carriera. Riducendo i punti operativi si riduce anche la possibilità di fare carriera all'interno della struttura e questo scoraggia il personale medico da venire in Basilicata e da andare al crop. Alcuni autori della trasmissione mi hanno appena passato una notizia di oggi, quindi di qualche ora fa. L'avvio dell'assunzione di tre dirigenti medici che segue a quella dell'assunzione di altri 25 ricercatori nel corrente di questo. Sì, sì. Io sono partito da darti un po' le criticità. Infatti, il fatto che siano stati assunti 25 ricercatori, che sia partito il bando per questi nuovi tre dirigenti e in corso il bando per il direttore generale della struttura, a noi ci fa pensare che non ci possa essere una visione orientata al ridimensionamento o addirittura, come si è detto, ma diciamo un'esagerazione assoluta, dire chiudiamo la struttura. Questo è di sicuro un segnale della volontà di sostenere la struttura. Devo dire che per quanto riguarda il progetto di Agenas, io personalmente e alcuni colleghi della quarta commissione abbiamo sottoscritto un redatto e una lettera mandata all'aggiunta regionale con le quali abbiamo evidenziato tutte le criticità. Non ultimo anche l'aumento del costo della materia elettrica e quindi l'aumento dei costi di gestione della struttura del crop e quindi la necessità di stanziare ulteriori fondi per andare a coprire questi costi. Sappiamo che pesano sul portafoglio del cittadino, figuriamoci sul bilancio di una struttura come il crop che funziona ad energia elettrica in maniera totale. E quindi ci sono tutta una serie di criticità che noi abbiamo sottoscritto e che l'aggiunta regionale ha recepito e anche Agenas recentemente ha risposto indicando che a suo parere le criticità da noi esposte sono considerabili, accettabili e si possono anche affrontare, l'aggiunta li può affrontare anche oltre il progetto redatto da Agenas. Questo è un bene. Per quanto riguarda le assunzioni ritengo che sia importantissimo avviare subito il processo di introduzione di tutti i 25 ricercatori, ma anche qui c'è la necessità di trovare io uso questo termine dei tutor, dei dirigenti medici all'interno della struttura che possano guidare questi nuovi assunti, questi nuovi ricercatori. Nessuno nasce ricercatore, noi stiamo parlando di persone che sono laureate in chimica, in biologia, in tecnologia, in fisca. Quindi trovarsi lì vuol dire che qualcuno deve comunque sia dare una guida a queste persone. Inoltre sono convinto che la ricerca non è una cosa che si può fare dalla sera alla mattina, quindi bisognerà dare a questi ricercatori il tempo di realizzare prima di tutto l'idea della ricerca e poi svilupparla. E' fondamentale a loro presenza perché ci permetterà di raccogliere i famosi punti necessari per sostenere il titolo di IRCS, perché molti non lo sanno, ma l'istituto di ricerca a carattere sanitario vive, mettiamola così, devono raccogliere i punti come al supermercato. Quindi le ricerche che vengono svolte valgono dei punti e c'è un tetto minimo di punti che bisogna raccogliere per poter detenere quel titolo. Quindi benvengano questi 25 ricercatori, benvengano i nuovi dirigenti e speriamo che arrivi subito il direttore generale, perché c'è bisogno di una guida diretta. Per carità la dottoressa Pulvirenti, che è l'attuale commissario, sta facendo un lavoro egregio, però giustamente il commissario si sta dividendo tra il CROB e l'azienda sanitaria di Matera, che è già complicata di per sé, quindi io immagino il lavoro di lavoro a cui sia sottoposta la dottoressa. Quindi è necessario dare una guida univoca al CROB in modo che si possa dettare una rotta e far ripartire tutto. A mio parere, la cosa fondamentale è partire il prima possibile, perché la prossima verifica che avremo per mantenere il titolo di IRCS è a fine 2026. E come ho detto, le ricerche che non si fanno dalla sera alla mattina, dobbiamo dare ai nuovi ricercatori, a tutti i ricercatori che già sono nella struttura, il tempo di poter lavorare. Quindi è importante partire il prima possibile. In chiusura, dottor, quale futuro concretamente? Cioè cosa possiamo dire ai cittadini, non di Lionero perché diventa riduttivo la cosa, ai cittadini lucani, ai calabresi, ai pugliesi, ai campani, perché molti arrivano anche dalle regioni limitrofe. Che cosa possiamo raccontare allora? Cioè ci sarà un futuro oppure si vive ancora con un minimo di incertezza? Allora, l'incertezza è dettata dal fatto che siamo tutti sotto un cielo. Però secondo me la via intrapresa può essere quella corretta. Sono convinto che bisognerà fare in modo che il crop risulti centro nodale dell'oncologia della Basilicata, in quella che comunemente viene definita il sistema ABESPOC, quindi che il crop risulti nodale, il punto nodale dell'oncologia in Basilicata e bisogna sostenere la struttura. Io sono contrario agli allarmismi da questo punto di vista perché non si fa altro che danneggiare le strutture. Il cittadino che legge sul giornale allarmismi su una qualsiasi struttura sanitaria sarà portato a pensare che non è il caso di farsi curare lì. Invece noi in queste strutture come i crop abbiamo dei dirigenti medici, degli infermieri, degli os, un personale altamente qualificato e di grande responsabilità che quotidianamente svolge il suo lavoro e che porta avanti la struttura. Quindi noi dobbiamo anche sostenere da questo punto di vista. Abbiamo perso il dottor Giorgetti. Giustamente come abbiamo detto siamo tutti sotto un cielo. Adesso per concludere telegraficamente dottor Giorgetti ha senso una domanda così ed è una mia personale domanda, nessun autore me l'ha scritta. Ha senso un altro centro oncologico nel San Carlo di Potenza? Ha senso potenziare ancora un ulteriore settore oncologico al San Carlo di Potenza cercando di far finta che non ci sia altro intorno? Dimenticando quello di l'irx crop di Vionero e continuando magari a dirottare soldi, finanziamenti in un altro ospedale che certo ha la sua importanza. Però qui parliamo di un settore che è ben definito, cioè quello dell'oncologia. Secondo lei? Ma io capisco che è una domanda difficile a cui poter rispondere, però... No, no, no. Guarda, io ho le idee molto chiare al riguardo. Secondo me a distanza di 45 chilometri, perché questa è la distanza che intercorre tra Eccop e San Carlo, a distanza di 45 chilometri avere due strutture gemelle che svolgono la stessa cosa crea in realtà un doppio problema, perché nessuna delle due strutture svolgerà un determinato lavoro al massimo delle possibilità. Quindi, come ho detto prima, se si ragiona in un'ottica di centralità del crop e in altre strutture che possono essere sempre il San Carlo o il Madonna delle Grazie a Matera, si lascia qualche ramo dell'oncologia, come può essere l'oncologia ginecologica, considerando che in questi due ospedali ci sono due centri ginecologici molto importanti, quindi lasciare anche lì la ginecologia oncologica in modo che sia un ramo totalmente gestito si può anche fare. Fatto sta che tutta la diagnosi e la verifica dei trattamenti, a mio parere, va svolta dal crop. Ripeto, bisogna dare centralità a questa struttura che è specializzata nell'oncologia. è nata così, è nata così. Certo. Quindi questa tua domanda, che è una critica che si sente molto in giro, secondo me è fondata. Duplicare strutture a volte non ha senso. Bene. Dottor Giorgetti, intanto la ringraziamo per aver dedicato un po' di spazio alla nostra radio ad un tema che merita certo ben altri minuti a disposizione, perché poi noi adesso avremo dei collegamenti con Udine, collegamenti con un altro festival importante sugli autori e quindi si parla di mille altre cose, magari si passa da un argomento a un altro con troppa facilità. La ripromessa è quella di risentirci, Dottor Giorgetti, eventualmente continuare a parlarne e a parlarne anche con, perché no, con dei dirigenti medici o con lo stesso, magari se è il caso, direttore sanitario o futuro direttore sanitario, ma anche lo stesso commissario che in questo momento gestisce il CROB. La saluto, la ringrazio ancora, un saluto ovviamente che è da parte del regista e del direttore Giuseppe Mollini. Mi ringrazio io per l'invito. E ci aggiorniamo il prima possibile. Va benissimo, a vostra disposizione. Grazie, grazie. Buona serata e grazie ancora per l'invito. Grazie. Gino Giorgetti, consigliere regionale del gruppo misto della regione Basilicata con noi per parlare appunto del tema sanità. Lo abbiamo fatto, certo, Dottor Giorgetti l'ha fatto in maniera molto chiara, raccontandoci un po' quelle che è l'evoluzione di questo nuovo possibile potenziamento dell'oncologico e di quello che secondo lui deve essere la direzione o la strada che dovrà percorrere questa struttura.